Biblioteche e fiabe Letture per bambini a cura delle biblioteche comunali di Perugia Il magico fiume arcobaleno di Mimi Verna Tre fratelli, Udu, Erdu e Erium, ascoltavano il rumore della pioggia. Volevano danzare sotto alla pioggia, volevano toccare l'arcobaleno che c'era in cielo. Ma la mamma disse loro, no. Piancero, sperando di farle cambiare idea, ma non funzionò. Erium provò addirittura a sgattaiolare fuori di casa di nascosto per far visita all'arcobaleno. La mamma lo recuperò prima che potesse andare. Alzò la voce, così che sia Erium che le sue sorelle potessero sentire. Potresti prendere un raffreddore, disse. Non ti piace la zuppa col pepe e dovrai mangiarla se prendi un raffreddore, aggiunse con un sorriso. Sperando che avrebbero chiesto di raccontare una storia, disse. L'arcobaleno è un fiume magico con poteri di guarigione, ma è così alto nel cielo da non poterlo raggiungere. Se prendete un raffreddore, l'arcobaleno non potrà aiutarvi. I bambini ci pensarono su. Mamma, per favore, raccontaci la storia dell'arcobaleno, disse Erdu. Sì, per favore, mamma, la voglio sentire anch'io, intervenne Udu. Io sono la terza, pregò Erium, alzando tre piccole dita. Bene, vediamo, disse scherzando. Ok, tesorini, venite qua. La mamma racconta storie e qui. Erdu corse a prendere il Naha, il bastone che usavano come totem. Lo consegnò alla mamma. Erium le diede il copricapo da indossare. Non sbagliava mai a farla entrare nel personaggio. Sedettero tutti tranquilli per ascoltare la storia che avevano sentito molte volte. Udu fischiò il suo fischietto, dicendo così alla mamma di iniziare. E la storia cominciò. Una volta, l'arcobaleno era un fiume magico. Era nascosto dietro il bosco verde di Mbadede. Siccome aveva potere di guarigione, era sorvegliato. Si era rimalato, bevevi l'acqua. L'arcobaleno era sempre felice di condividere. Ma non gli piacevano le persone che si comportavano male. Grazie alla magia del fiume, c'era anche del gelato lungo le sponde. Chiunque arrivava a bere nell'acqua, poteva apprezzarne anche il gelato, specialmente i bambini. Il gelato proveniente dal fiume era rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola e indaco. Un giorno, una vecchia signora cattiva di nome Mbom, arrivò lì da una terra lontana. Quando arrivò, incontrò una guardia. Lui non la conosceva e sentì una strana sensazione, ma non ascoltò i suoi sentimenti. Le indicò la strada nel bosco e le disse di rispettare il fiume. Mbom annui e andò verso l'acqua. Ne prese un sorso e guarì. Poi si guardò intorno per essere sicura di non essere osservata. Mbom prese un sasso e lo gettò dentro il fiume. Guardò come l'acqua risaliva e si spargeva in un'increspatura. Compiaciuta prese un bastone, lo gettò dentro e accadde la stessa cosa. Mbom, sperando in una vita eterna, saltò dritta nell'acqua. Ma non appena saltò, il fiume risalì. Salì in alto nel cielo e non tornò più a Mbadede. A volte però l'arcobaleno segue la pioggia per sentirsi di nuovo come un fiume. E qui finisce la mia storia, disse la mamma. Quindi, tesore miei, ditemi perché amate così tanto questa storia, chiese la mamma. Mi chiedete spesso di raccontarla. Mi piace perché mi ricorda di prestare attenzione ai miei sentimenti, disse Udù. Mi aiuta a ricordare i colori dell'arcobaleno, aggiunse Erdù. Erium giocola con la sua fortuna. Mi piace perché mi ricorda il gelato. Posso averne un po' adesso, per favore? Fa freddo adesso, mangiamolo domani, va bene? Disse la mamma. Poi aggiunse, la prossima volta vi racconterò la storia della fine dell'arcobaleno. Grazie.